Ma... Quella? Maddalena? Che sei una bella tia? Ma io non sapevo che la Maddalena era così bella. Ti capisco? Sì, bella, bella, ma qua è bella. Questa cosa è una prostituta, sì. Una cortesana sopra, no. Ma insomma, non c'è di creanza che se Gesù vada qua per darmi questa notizia vuol dire che Maddalena dà il suo giudizio? Eh no, Maddalena? Ti dà il suo giudizio per me? Sì, Madonna. Mico ha messo il giudizio. Ah sì, so ben che il giudizio che ha messo è la Maddalena. Siori, è la Maddalena che ha messo il giudizio. Ma puoi il giudizio, Maddalena? Puoi il giudizio? Ma guarda che sei meglio che stai stritta. Guarda che poi il problema non c'è neanche della Maddalena, siora. Il problema non c'è neanche a te. Il problema è che il vostro fiolo, Gesù, che si sbaglia a stare che sempre tirò a questi cuoretti a queste cortisane. Non ti ho voglia spiegare. E il mio padre Gesù dice che lui si veniva al mondo proprio con qualche speranza a queste cuoretti, una speranza da parte di nessuno. Ti ho già detto Sì, lo capisco, Madonna. Ma una volta, una volta potrei anche mettersi con qualche dunque gai schei, con un medico, con un avvocato che potrei dargli la manco perché ha bisogno e invece no, poi, aspetta, ma dove si fa? Cos'è sto lì? Così? Contro i preti, Madonna. No, gata, mettersi contro i preti. Cos'è il mio padre? Che prima un po' che farà del mal a tuo fiolo? Cosa ti ho detto, Anna? Fate il mal al mio bambino e a me? Ma chi è che avverete a fare del mal al mio bambino e a me? Se io sei uno, che vuolte il bene a tutti e fate il bene anche a chi non ti domanda? E tutti che hanno voluto il bene che hanno voluto il bene al mio bambino e a me? a me, a me, anche a me Madonna che voglio tanto bene al vostro bambino. Si so bene che è bene che ti devo aiuti. Ma dai, la fio della Madonna, guarda, stai senta che se anche per colpa tua ti ti sei da più tanzo, Anna! Ma insomma, c'è che c'è ansa! E che tutto per Dio che sia sta po' arenda, basta! Che può? Anche se sta ragazza fa provarsi un amor sincero con i due bambini mi è saliata contenta perché non se fosse un uomo e i miei bambini oltre che essere il cucchiolo del Dio mi ha le mani le pie gli occhi e tutto gli uomo e ora che sarei ancora contenta se trovasse una bea ragazza perché anche a 33 anni di un testo sarei ancora ora che trovasse una bea ragazza che facesse una bea commenta e ora qui a quel punto di vigneria e a Nonna Maria e tutti invece Maria Nonna Maria! Nonna Maria! Nonna Maria! Arriva un attimo! Grazie!